A quasi tre decenni da mani pulite dalle monetine contro Craxi, il cortocircuito tra politica e giustizia scotta ancora. Io sono sempre stato al corrente della natura non regolare dei finanziamenti ai partiti e al mio partito. Ieri la chiamata incorretà del leader socialista, oggi l'atto d'accusa di Renzi, in mezzo Prima, Seconda e Terza Repubblica. Tra cappi in Parlamento, governi caduti per via giudiziaria e leggi a Personam. Si tratta di porre fine a un lungo periodo di supplenza della politica e del ruolo delle istituzioni elettive da parte dei magistrati dell'accusa. In principio i magistrati erano visti come eroi moralizzatori. Berlusconi prima li sostiene, poi passa dall'altra parte della barricata. L'intreccio tra giustizia e pressione mediatica cambia gli equilibri parlamentari e non solo. La notizia dell'avviso di garanzia è arrivata qui a Napoli alle 14.15. In questo momento il Presidente del Consiglio, che è una persona seria, sta facendo il suo lavoro. Continua a susseguirsi di notizie clamorose, smentite e colpi di scena. Il primo governo Berlusconi cade un mese dopo la clamorosa notifica di invito a comparire consegnata ai durante la conferenza internazionale sulla criminalità. Presidente, quando le pensioni? Un'inchiesta giudiziaria faziosa e per giudiziale, condotta con abuso di regole inquistoriali. Quasi 15 anni dopo, stesso copione. Noi stiamo mica all'osteria! Romano Prodi supera indenne i voti contrari dei vari rossi e turigliatto, ma deve arrendersi alla sfiducia di Mastella, indagato in un'inchiesta poi archiviata. Abbiamo una ignoranza di magistrati rossi organizzatissima che usano la giustizia a fine di lotto politica. Lo scontro politica e giustizia, nato su affari e tangenti, con Berlusconi si trasforma sempre più in una questione privata. Sì, è vero, ha telefonato un funzionario della Questura, nella convinzione che Karima El Marug fosse parente di un presidente di Stato. E con altro stile rispetto agli striglianti toghe rosse, anche Renzi, arrivato a Palazzo Chigi, fissa da subito i suoi paletti. Possiamo dire che si fa carriera per merito e non per l'appartenenza di corrente? La contrapposizione tra chi le leggi le fa e chi le applica riesplode anche con il governo del cambiamento. Questo organo dello Stato è stato eletto da voi. Altri non sono eletti da nessuno e non rispondono a nessuno. Il caso Diciotti è la rogna più grande per il Movimento 5 Stelle, persino lo slogan onestà, onestà, i si ritorce contro. Onestà, onestà! Il punto di massimo scontro tra giallo-verdi e magistratura si consuma nel nome del primato della politica sulla giustizia. E oggi, nuovo governo, nuovi attori, stessa musica. Io difendo l'autonomia e l'indipendenza della politica dalla magistratura.